Buonasera, lei è stato assessore con Melucci e ora? Come mai ha rotto? E certo, come mai? Lei ha criticato Melucci aspramente? No, non l'ho criticato mai. Ha appoggiato suo cugino Walter Musillo. No, io ero con Melucci perché ero con Musillo. E ora mi candido. E perché mette i like quando Musillo parla di gestione disastrosa dell'amministrazione Melucci? Adesso mi candido. E vabbè, che fa? Cambia idea? Ma la delibera sui parcheggi l'ha votata anche lei? L'ha votata anche lei. E quindi che fate? E quindi? E quindi cosa succede? Risponde, risponde, risponde. Basta, non ti voglio rispondere. Hai votato i parcheggi per l'aumento dei parcheggi anche nel pomeriggio e l'aumento dei parcheggi. No, 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 domande che è aggressivo. È una domanda. Lei? Sa cosa significa essere aggressivo? Sto aggredendo qualcuno? Sto ponendo delle domande. Tra persone civiche? No, no, sta rispondendo. Lei è una persona che la faccia rispondere. Ma lei che cos'è? Il portavoce? Parliamo dei parcheggi. E vabbè, qual è il problema? Va bene, sui parcheggi? Non vuole rispondere. Non è contenta di avere... Non sa rispondere. Va bene, va bene. Non vuole rispondere. Non sa rispondere. Non sa rispondere. Non vuole rispondere. Ha votato per i parcheggi. Cittadini di Tanto, sapete che questa persona... No, dico la verità, a te ti brucia, amico.